Santo Padre, Autorità, Organizzazioni, Sciocatori Le religioni, in particolare, sono chiamate a farsi vincolo di pace e mai di odio, perché in nome di Dio bisogna portare sempre e solo l'amore. Ma voi sapete che discriminare può essere sinonimo di desprezzare. La discriminazione è un disprezzo. E voi, con questa partita d'oggi, direte no a ogni discriminazione. Desidero consegnare a voi tutti questo messaggio. Allargate i vostri cuori da fratelli a fratelli. Questo è uno dei secreti della vita. Allargare i cuori da fratelli a fratelli. E anche la dimensione più profonda e più autentica dello sport. Grazie. È molto importante nel momento, perché il messaggio che vuole dare il Papa con questo partito è la paz nel mondo. E credo che necessitiamo una cosa così per poter cambiare il mondo. È un significato molto importante per noi e a quelli che siamo venuti, giocatori, ex giocatori, allenatori. È la prima partita per la pace. Noi speriamo dalla nostra parte di dare un piccolo contributo al miglioramento. Speriamo il presente e il futuro e siamo per questo motivo che abbiamo voluto dare una mano in un certo modo. Grazie. 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 Grazie.